Accidenti. Questo qua è stato il primo pezzo del museo, ero notante. Poi io dalla Vercomi mi sono fatto dare i segni, mi hanno detto che colore era, e il meccanico l'ho rifatto come era, con i fasci addirittura. Funzionato sempre. Ah addirittura eh sì, guardi. Sì sì. Ho notato adesso. Guardi, ecco, siccome qualcuno dice, ma quel editor lo sei inventato tu, ho messo qua un distributore con il fascio, la fotografia. Eh, quindi gli originali a dimostrare. Sì sì. No no, quindi inventato non c'è niente, ci sono cose che nessuno sa. Questo, questo qui è marcato Agile per vedere qua, va? Per fare al pieno gli Accendino. E c'è la marca dell'Accendino lì, adesso lì in ombra non si vede, no? Ah. E c'è la pubblicità anche, volete fare anche questo pieno? Noi ci abbiamo pensato. È degli anni Sessanta. Oh caspita. Perché gli facevano al pieno la macchina, in omaggio gli facevano al pieno l'Accendino. Sì. Oh caspita. Quindi li riempivano cosa? Gassa, no? Dice, riempivano. Quindi li vogliavano anche a fumare. Eh beh. No, vabbè, allora poi non ce n'erano i divieti. Appunto, dico. E questi qua sono i primi manifesti quando hanno incominciato a mettere le donne come richiamola. Ah. Che però le dicevano vestite dopo il riscattamento del pianeta. Sì. La morale si è evoluta. Il calendario della Marini, che aveva fatto la 95 per l'AIP, che ho dovuto metterli sotto metro perché andavano le tutte a sfogliarle. Oh caspita. Quella della Marini? Sono qui? Sì, la Marini è questa. Ah. Eh beh. Un anno con Valeria. Naturalmente in calendario. Eh beh, ormai anche lei. Eh beh, sempre una bella donna, dai. Dai che ti accendo di qua.